Buongiorno, ben trovati appuntamento di venerdì 3 giugno con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che apriamo come sempre con il Santo del Giorno, 3 giugno che viene ricordato con il Sacro Cuore di Gesù nella città di Paramonial in un monastero della visitazione verso l'anno 1670, trovandosi in un giorno dell'ottava del Corpus Domini, Santa Margherita Maria Alo che prostrata innanzi al Santissimo Sacramento esposto alla pubblica adorazione, le apparve Gesù e le diede a vedere il Santissimo Cuore, era questo tutto investito da fiamme circondato da una corona di spine squarciato da una ferita e con una croce piantata vi sopra, Vedi, disse Gesù alla sua adoratrice, vedi questo cuore che si istrugge d'amore per gli uomini, ciò nonostante non riceve che ingratitudine e oltraggi, questo cuore sempre disposto a versare grazie e benedizioni sopra di tutti, ma gli oltraggi continui che mi fanno ne impediscono la diffusione, pensa tu dunque a riparare un sì lacrimevole disordine e fa che il venerdì successivo all'ottava consacrata all'onore del mio divin corpo sia specialmente consacrato all'onore del mio divin cuore, riparando con onorevole ammenda e devota comunione le offese che ricevo nella divina Eucaristia. Io spargerò abbondanti benedizioni su quanti mi presteranno questo culto e a te affido l'incarico di far conoscere ed eseguire il mio volere. Margherita si accinse così all'adempimento della volontà di Gesù ed il pontefice Clemente X approvò solennemente la devozione al Sacro Cuore e l'arricchì di molte indulgenze. Papa Pio IX ne estese la festa, tutta la Chiesa e Papa Pio XI innalzò la festa al rito doppio di prima classe con ottava. Dunque il Sacro Cuore di Gesù che viene ricordato il 3 giugno. Noi iniziamo la nostra consueta rassegna stampa con le prime pagine del centro, con le quattro edizioni. Partiamo dall'edizione di Pescara, il titolo principale riguarda purtroppo un'altra morte sulle strade della nostra regione. Questa volta un giovane di 24 anni schianto in BMW, tragedia a Manoppello, il giovane carrozziere era conosciuto come DJ. Questo incidente è accaduto due notti fa alle 3 di mattina, ferito un altro ragazzo, illeso un terzo che si trovava sempre a bordo di questa vettura. Poi vedete in alto il titolo principale, l'apertura nel taglio alto che riguarda il calcio. Si parla ovviamente della finale di andata dei playoff tra Pescara e Trapani. Pensate, in un solo giorno venduti 2.500 biglietti, scontato il tutto esaurito con probabilmente già nella giornata di oggi il sold out. E poi un'altra fotonotizia che riguarda ancora lo sport, impresa delle ragazze del Montesilvano e Scudetto, trionfo in finale a Firenze. Poi nelle cronache, le ultime analisi, allarme fiume, l'inquinamento è raddoppiato. E poi il blitz dei NAS, chiusa un'ala di una casa di riposo a Montesilvano. E poi la cronaca, ancora stazione sfratto ai disperati, la polizia sgombera migranti e disoccupati senza più un tetto. Lasciamo la prima pagina del centro, edizione di Pescara. Andiamo a vedere l'edizione di Chieti, Lanciano Vasto, anche in questo caso per vedere quali sono i titoli principali. Anche nell'edizione di Chieti del centro il titolo più importante riguarda questa tragedia sulle strade, questa morte di questo 24enne in un incidente stradale. Invece si parla della sfida play-out che ci sarà domani sera allo stadio Guido Biondi di Lanciano, di fronte a Lanciano e Salernitana, la sfida salvezza verso il tutto esaurito. Dunque anche Guido Biondi si appresta a vivere domani sera una serata sicuramente importante, con il Lanciano chiamato ad un risultato positivo e possibilmente ad una vittoria, poi in vista della gara di ritorno che si giocherà mercoledì prossimo alla Rechi di Salerno. E poi le cronache, il nuovo policlinico Parla d'Alfonso Maltauro, è un'occasione. E poi i comizi finali, in particolare a Lanciano e Vasto, perché vi ricordo che domenica si voterà in diversi centri della nostra regione per le elezioni amministrative, dunque Guida al Voto con i nomi dei candidati. E poi Chieti, Legionella parte la bonifica, si pompa cloro nei tubi, notte senza acqua in ospedale. Lasciamo l'edizione di Chieti del centro, andiamo a vedere quella di Teramo. Poi chiuderemo, come sempre, con l'edizione di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Per quanto riguarda l'edizione teramana del centro, il titolo principale riguarda l'assalto al portavalori di due sere fa. Le indagini li ho visti sparare con il mitra, assalto sulla 14. La testimone, Kalashnikov puntato, a papà con i figli. E poi le cerimonie del 2 giugno, vedete la fotonotizia, marce, feste e pedalate in tutte e quattro le province della nostra regione. Ci sono state le manifestazioni per ricordare il 2 giugno e la nascita della Repubblica. In alto il calcio, Zauli presentato ieri, il nuovo allenatore del Teramo. Voglio giocatori tecnici e motivati, ha detto il neo allenatore bianco-rosso, che vedete brindare con il padrone Luciano Campitelli e il direttore sportivo Fabio Lupo. E poi le cronache, la crisi in comune, siamo a Teramo, nuova giunta, entrano Canzio e Fracassa. E poi anche a Roseto comizi finali con cabaret e gruppi rock verso il voto. E poi di nuovo a Teramo, muore, si sospetta l'overdose, accanto ad un 46enne teramano, è stata rinvenuta una siringa. Ora sarà l'autopsia a stabilire con certezza le cause del decesso. Chiudiamo con l'edizione di L'Aquila, Vezzano e Sulmona, sempre del centro. Poi andremo a vedere anche i titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Anche nell'edizione dell'Aquila una notizia triste che riguarda un altro incidente stradale. Questa volta a Balsorano, morto nello schianto dopo la festa, vittima un ingegnere di 28 anni, feriti. Tre operai dunque in poche ore, a distanza di poche ore, due schianti mortali in provincia di Pescara e nella zona dell'Aquila, nella zona della Marsica. Vedete la fotonotizia? Notizia, Cordesca, porta Bonomini e la giostra dei bambini. Siamo a Sulmona, si parla di giostra dei bambini e giostra cavalleresca. Ieri la gara si è svolta allo stadio di Sulmona. E poi le cronache, elezioni, comuni al vuoto, nomi, volti e guida ai servizi anche in questo caso. E poi mensa un euro in ospedale, si parte oggi ad Avezzano. E poi ancora Sulmona, scippo, ferite nonna e nipote, si ribalta il passeggino, denunciato il rapinatore. E lasciamo anche l'edizione del centro di L'Aquila, Avezzano e Sulmona. Ora andiamo a vedere sempre, come vi dicevo, i titoli dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Ovviamente per dare uno sguardo anche quelli che sono i titoli, quelli che sono gli argomenti che riguardano il paese. Poi ovviamente nella seconda parte andremo a vedere, tra pochi minuti andremo a iniziare a leggere i titoli che riguardano invece la cronaca locale. Allora partiamo dal quotidiano La Repubblica, la sfida di Berlino, genocidio armeno, Turchia colpevole. Il Parlamento vota, ancora c'è un problema nella grafica, vediamo se possiamo recuperare questo titolo. Allora lasciamo Repubblica, andiamo al Corriere della Sera, fu genocidio, stesso titolo, crisi sugli armeni, Berlino-Ancara, Erdogan ritira l'ambasciatore, Merkel, noi amici. Dunque c'è tensione tra due paesi molto vicini, proprio sul riconoscimento tedesco del genocidio degli armeni. Poi Boldrini sul referendum, no agli scontri di parte. E poi vedete la fotonotizia, emergenza maltempo a Parigi, Louvre, opere al riparo dalla piena. Guardate quest'immagine con la tour Eiffel e le strade attorno, completamente allagate. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo avanti. Il Fatto Quotidiano, nell'inchiesta altri 13 prof del sì, anche Amato faceva pressioni, concorsi pilotati. Dopo Barbara, ecco i nomi nuovi, tutti pro riforma. Boschi e poi in alto, vedete, parla Celentano, solo un'incognita ci può salvare le nostre città. E la corsa al voto di domenica, il molleggiato dice la sua. E poi siamo al quotidiano Il Giornale, il voto inquinato, questo è il titolo principale del quotidiano di area centrodestra. Vogliono truccare la partita pur di vincere le elezioni e il referendum. Il governo si gioca tutte le carte, la RAI dà spazio, scrive Il Giornale, solo al PD. E poi il processo Olivetti, una perizia in chioda a De Benedetti sui morti da Mianto. E poi la crisi diplomatica, anche qui sul Il Giornale, Germania-Turchia, da alleati a nemici. Andiamo avanti, proseguiamo, siamo al tempo di Roma. I premessi d'oro dei sindacalisti del bus, il dossier, le ore retribuite e non lavorate, sono 131.000, 11.000 in più del consentito. E poi vedete questo titolo che riguarda Benigni, questo articolo viene titolato con l'Oscar dell'ipocrisia. Sfilano tutti, tranne Imarò, applausi ironici al passaggio di Netturbini sui mezzi dell'Ama. Parliamo delle celebrazioni ovviamente del 2 giugno. E dopo i comizi sulla Costituzione che non si tocca, Benigni vira sul sì al referendum. E siamo al quotidiano libero, Berlusconi, occhio che risorgo, Silvio annuncia il suo risveglio elettorale. Forza Italia è crollata per due motivi, ma so come tirarla su. E poi tutte le foto, in questo caso il servizio che riguarda le celebrazioni per il 2 giugno. La Repubblica festeggia, però non sa che cosa scrive Libero. Siamo al quotidiano il mattino di Napoli, femminicidi, basta sconti, il ministro per la famiglia Costa stoppa i riti abbreviati e alle attenuanti negli ultimi giorni. Ci sono stati ancora omicidi che hanno visto vittime donne al termine di situazioni familiari davvero difficili. L'ultima storia arriva da Roma con questa ragazza di 22 anni uccisa dal fidanzato. E poi il voto, il blitz di Renzi per Napoli ed il Sud, oggi la chiusura della campagna elettorale. A tal proposito oggi ci saranno gli ultimi comizi, domani il silenzio elettorale e poi domenica si andrà alle urne. Siamo al quotidiano della CEI Avvenire, ambiente di guerra, censiti nel mondo ben 1746 focolai di conflitto legati a inquinamento e sfruttamento di risorse. Poi il Papa e i preti, uniti al Padre, dalla misericordia. Proseguiamo, siamo al quotidiano. Il manifesto, signor No, questo è il titolo principale del manifesto, in un cinema Odeon strapieno. Firenze festeggia il 2 giugno all'insegna del No al referendum costituzionale. Il 2 ottobre ci sarà questo referendum e ovviamente è già iniziata in questo caso la campagna elettorale. In alto il Bundestag unanime armeni fu genocidio. Il Parlamento, la Camera Bassa tedesca, ha detto che ci fu il genocidio contro gli armeni. Questo ha scatenato la reazione, come abbiamo visto, della Turchia e di Ancara. Siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Mattarella, un'Italia migliore. Renzi e la Boschini, trincea per il referendum. Forse voto il 2 ottobre, sembra praticamente certo che si voterà il 2 ottobre per il referendum. Scontro fra Benigni e Fo sulla riforma. Ultimi fuochi per le comunali. Siamo al quotidiano di Genova, il secolo XIX. Unione Europea in ripresa, ci crede anche Draghi, più alte le stime sul PIL. E inflazione pronti a tutto in caso di Brexit. E poi anche sul secolo XIX, come sul Corriere della Sera, questa foto che è davvero emblematica, che non ha bisogno di ulteriori commenti. La piena a Parigi minaccia le opere del Louvre. Vedete le strade che portano gli Champs-Élysées, che poi portano la Tour Eiffel, completamente allagati. E siamo al quotidiano L'Unità, fino all'ultimo voto. due giorni per voltare pagina a Roma e Napoli e confermare i migliori governi locali. Ricordiamo che tra le altre città si vota a Roma, a Napoli e a Milano. L'Unità è l'ultimo giornale per quanto riguarda i titoli nazionali. Noi torniamo invece sui quotidiani di Casa Nostra. Come sempre, poi vi ricordo, intorno alle 7.20, l'appuntamento con il nostro Giovanni De Palma per parlare di meteo, a proposito di quello che sta accadendo, abbiamo visto anche in Francia. Passiamo però alle pagine d'Abruzzo dei nostri quotidiani. Partiamo dal centro, piattaforme in mare. Il ministro cancella pagamento dell'Imu. Impianti non accatastati, i comuni non hanno diritto ai soldi. Il caso di Pineto, che aveva chiesto 33 milioni di euro a Leni. E poi si parla di trasporti a Irvallè, costretta a sospendere i voli. Scattano i rimborsi. Dunque ancora una brutta notizia per l'aeroporto di Pescara, l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara. E poi di Febo, di Selle, cambiando argomento, accelerare, dice, il cambio di Amicone all'Arta. E poi in basso, centraline auto, ora i danni, Codacons, mediazioni per 5 clienti in Camera di Commercio a Chieti. Ricorderete la vicenda che qualche mese fa investì la Volkswagen. Andiamo avanti. Parliamo di Nautica. Nautica status symbol. Sotto costa sfata un tabù a Pescara. La fiera dedicata agli amanti della vela e del mare. Ieri l'inaugurazione con il taglio del nastro. Alla presenza delle massime autorità. c'era il presidente della regione, Luciano D'Alfonso, il sindaco di Pescara, il prefetto del capoluogo adriatico, ovviamente il presidente Becci, a fare gli onori di casa. Andiamo a vedere il servizio. Tanti visitatori al Marina di Pescara per la terza edizione di Sotto Costa. Presidente Becci, una grande soddisfazione, una manifestazione che cresce anno dopo anno. Sì, quest'anno diciamo che ha pagato molto questa collaborazione col Medfestival di Gaeta, organizzato dalla Camera di Commissione di Latina, che ci ha portato un numero cospicuo di espositori, in particolare dall'altra parte del nostro paese. Cioè, sono aziende che vengono dal tirreno. È la prima volta che c'è un numero così importante. Noi abbiamo l'ambizione di far diventare di questa manifestazione l'evento centrale per la valorizzazione del nostro porto turistico. La Lega Navale Italiana ha proprio come obiettivo quello della divulgazione, della promozione della nautica. Esattamente. Noi siamo un'associazione che si occupa, siamo la parte, la sezione di Pescara della Lega Navale Italiana, che è un'associazione nazionale, che ci occupiamo di divulgazione della cultura del mare, delle attività sportive, specialmente rivolte ai giovani. Lega Navale che fa molta attività sul territorio. Sì, sì. Noi ci occupiamo in tre campi principalmente, quello della vela, quello della canoa kayak e quello della pesca sportiva. Presidente, possiamo dire che con questa manifestazione si apre la stagione estiva del Marina di Pescara, tanti gli eventi anche per la prossima estate. Il porto turistico va vissuto anche al di là della bellezza, del momento che ricorda le vacanze. In questo momento pensare alle vacanze non è assolutamente sbagliato. Noi puntiamo molto anche come attrazione per quella che era la parte commerciale. Diversi operatori sono qui presso il porto turistico e in questi anni abbiamo risposto alla crisi investendo su questa infrastruttura che riteniamo centrale, centrale dell'economia della nostra città e della nostra provincia. Ancora titoli di respiro regionale dal centro, di fida degli ambientalisti, fiumi sono ancora fogne, lettera a comuni e procure, poi spiagge, progetto di legge per l'accesso dei disabili. In basso, imposimato, una schifezza le leggi di questo governo, l'ex magistrato a basto, ha parlato anche del governo Renzi. E poi l'Aquila, la ricostruzione è difficile, il parroco antimafia ora è sereno, non possono più farmi nulla. Don Giovanni Gatto è stato ascoltato per cinque ore dai carabinieri, i casalesi, gli incontri, i messaggi. Anche Falcone diceva che per stare tranquilli occorre dire tutto, io l'ho fatto, spero sia di esempio. Poi la pagina dell'economia, Draghi alza le stime sul PIL, pronti al rischio Brexit, dice il presidente dell'ABC. Siamo già arrivati alle pagine di Pescara del centro, allora andiamo a vedere invece quelle del messaggero, per quanto riguarda in questo caso la cronaca d'Abruzzo. Lo faremo tra qualche istante per vedere anche in questo caso quali sono i titoli affrontati dal messaggero nell'inserto che riguarda la nostra regione. Dunque vedremo quali sono gli argomenti trattati, ma lo faremo tra qualche istante perché è giunto, direi, a questo punto quasi il momento di parlare di meteo. Lo faremo con il nostro Giovanni De Palma. Abbiamo visto proprio dal quotidiano La Repubblica, anche dal Corriere della Sera, che in buona parte d'Europa ci sono problemi per quanto riguarda il maltempo, allagamenti in Germania, allagamenti in Francia e ci sono stati problemi anche nelle ultime ore in alcune regioni italiane, anche in Abruzzo. Quella di ieri è stata una giornata difficile, sicuramente non semplice, sul fronte del maltempo con piogge violente, con grandinate che hanno investito diverse zone della nostra regione. Tra l'altro il tutto ci era stato abbondantemente annunciato e anche con anticipo dal nostro meteorologo Giovanni De Palma che abbiamo come ogni mattina alle 7.20 in collegamento diretto. Giovanni, buongiorno. Buongiorno Paolo, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, nei giorni scorsi ci avevi annunciato l'arrivo di questa perturbazione con il rischio di piogge e nubi fraggi e anche grandinate. Ieri in diverse zone della nostra regione ci sono stati nubi fraggi temporali e anche grandine. Eh sì Paolo, perché la nostra penisola continua ad essere interessata dalla presenza di masse d'aria fresca e ristabile che interessano un po' tutte le regioni e soprattutto l'Europa centrale. Quindi questa situazione favorisce la formazione di temporali sulla nostra regione e nelle prossime ore il cielo sarà caratterizzato ancora dalla presenza di una estesa copertura nuvolosa più compatta sul settore occidentale dove sono previste delle precipitazioni. Poi nel corso del pomeriggio aumenterà la probabilità di fenomeni temporaleschi che dalle zone montuose tenderanno poi ad estendersi anche sul versante orientale della nostra regione. Nella giornata di domani non cambierà di molto la situazione perché comunque anche se avremo al mattino delle schierite quindi del cielo poco nuvoloso durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio assisteremo alla formazione di addensamenti, denumulamenti sulle zone interne, sulle zone montuose con possibili rovesci e manifestazioni temporalesche che nel corso del pomeriggio poi tenderanno ad estendersi verso il settore orientale della nostra regione. Poi si attenueranno, ovviamente i fenomeni si attenuano sia stasera sia domani, sia domani sera durante le ore serali notturne e al primo mattino però poi probabilmente tenderanno a riproporsi anche nella giornata di domenica in particolar modo sulle zone interne montuose ma localmente anche sul settore collinare che si affaccia sul versante triatico nel pomeriggio saranno possibili formazioni temporalesche quindi ecco questa è una situazione da segnalare e le temperature comunque che resteranno più o meno stazionarie perché insomma se da un lato aumenteranno durante le ore centrali per effetto del riscaldamento favorito dal sole ma ovviamente con questa situazione ovviamente in serata e nottata comunque risulteranno ancora piuttosto i valori piuttosto bassi quindi trefchi insomma ecco siamo leggermente al di sotto delle medie stagionali per quel che riguarda le temperature e questa situazione comunque resterà ancora praticamente stazionaria non ci subiranno non ci saranno sostanziali variazioni quindi almeno fino ai primi giorni della prossima settimana poi probabilmente probabilmente avremo un temporaneo miglioramento tra martedì e mercoledì ma si tratterà comunque di una situazione da confermare nei prossimi aggiornamenti Paolo Giovanni siamo a pochi giorni dall'inizio ufficiale dell'estate del 21 giugno però mi sembra di capire che bisognerà ancora aspettare proprio per vedere tempo prettamente estivo dopo un inverno mite dopo una primavera che ha regalato temperature ben al di sopra della media tarda ad arrivare l'estate e io ricordo che in anni passati a giugno si andava già al mare da diversi giorni e quest'anno invece probabilmente saremmo costretti a aspettare ancora parecchio eh sì Paolo bisogna aspettare perché in questo momento sull'Europa centrale sul Mediterraneo e quindi sulla nostra regione non c'è non ci sarà la rimonta di un'area di alta pressione non ci sarà l'alta pressione ma anzi la nostra penisola continuerà ad essere interessata dall'arrivo di masse d'aria fresca di stabile di origine atlantica che temporaneamente però dovrebbero attenuarsi tra martedì e mercoledì ecco poi successivamente almeno questo osservando un po' gli aggiornamenti poi sai benissimo che non ci possiamo spingere al di là dei 5-6 giorni per avere una previsione attendibile però possiamo dire che insomma la stabilità è ancora molto lontana quindi è probabile che veremo interessati ancora da queste perturbazioni che ci portano promesci e manifestazioni temporali che insomma è presto ancora per parlare di caldo estivo quello vero perché insomma almeno alla luce dei dati attuali questa situazione non cambierà di molto nei prossimi giorni Paolo grazie grazie a Giovanni De Palma che ritroveremo domani ovviamente nel corso di Mattino 6 Giovanni buona giornata buon lavoro grazie Paolo una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6 e dunque per restare aggiornati vi ricordo il sito www.abruzzometeo.org eccolo qui inquadrato per restare aggiornati per conoscere in tempo reale le previsioni del tempo che riguardano la nostra regione vedete inquadrati anche i live delle quattro province e poi la pagina Facebook utile strumento anche per interagire con il nostro meteorologo noi chiudiamo la parentesi dedicata al tempo torniamo ai nostri quotidiani torniamo al messaggero perché dovevamo vedere le pagine di cronaca ad Abruzzo del quotidiano Oggi Nedicola vediamo la prima inquadrata strade di sangue due morti abbiamo visto anche dal centro Adirano Claudio un DJ di 25 anni di Rocca Montepiano si è schiantato contro un albero nella zona di Manoppello un'altra vittima un ingegnere di 28 anni a Balsorano e poi vedete è partita la corsa direi abbondantemente è partita la corsa per accaparrarsi un biglietto per Pescara-Trapani gara di andata della finalissima playoff in programma domenica alle 20.30 allo stadio Adriatico tutti in fila nelle varie rivendite poi fosse biologiche a Pescara scatta la linea dura andiamo a vedere la seconda pagina di cronaca regionale dal messaggero si parla di politica in questo caso Parlamento e Regione il mio patto con Pagano i due big di Forza Italia siglano la tregua alla vigilia delle elezioni amministrative si parla ovviamente vedete nella foto Fabrizio Di Stefano l'onorevole Fabrizio Di Stefano e di questo di questo patto di questa tregua con Pagano che è il referente regionale di Forza Italia il deputato dice per il bene del partito pronto a correre per il dopo D'Alfonso e poi promesse mancate si legge in questo risvolto di questo articolo il giorno gratis dei turisti dimenticato infine a fondo pagina Pescara il dramma dei migranti a sotto costa abbiamo visto prima il servizio sul taglio del nastro della manifestazione il salone nautico apre all'attualità protezione civile convenzione tra regione e guardia costiera dunque per affrontare l'emergenza che riguarda i migranti noi ci fermiamo allora per qualche attimo poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 andando a leggere insieme le pagine di cronaca provinciale dai nostri quotidiani di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 ripartiamo dalle pagine che riguardano la cronaca di Pescara andiamo a vedere proprio il centro per quanto riguarda proprio le prime pagine della cronaca della provincia di Pescara tragedia a Manopello schianto in BMW muore a 24 anni Claudio Adriano carrozziere DJ stava tornando a Rocca Montepiano dopo la serata in un locale salvi i due amici poi il sindaco di Rocca Montepiano secondo lutto in 40 giorni una maledizione proseguiamo le nuove analisi l'inquinamento del fiume è raddoppiato impennata dei colibatteri alla foce rispetto ai dati dei mesi scorsi il forum dell'acqua dice la situazione sta peggiorando e poi a centro pagina ci sono ancora scarichi abusivi ma il mare è già migliorato lo dice invece Enzo Del Vecchio vice sindaco del capoluogo Adriatico e poi a fondo pagina basta con la puzza fermiamo il salzificio il centrodestra sollecita un intervento immediato del sindaco continuano le proteste dei residenti andiamo avanti docente morto in Turchia slitta il rientro della salma pescara si allungano i tempi per il ritorno in Italia della salma di Alessandro Angelucci la cultura in lutto il media museo potrebbe ospitare la camera ardente proseguiamo festa della repubblica ricordi e celebrazioni quel 2 giugno del 1946 il primo voto delle donne la testimonianza di un gruppo di donne ultranovantenni della Val Pescara nella sana Tinozzi della provincia con Clara Perrotti Marzoli 106 anni di Alanno ieri ci sono state delle cerimonie per quanto riguarda il 2 giugno in Abruzzo noi abbiamo seguito la cerimonia che si è tenuta a Pescara in largo mediterraneo proprio davanti la nave di Caccella vediamo Eccellenza Pescara ha ricordato il 2 giugno una ricorrenza non solo per ricordare ma per rappresentare valori importanti della Repubblica Italiana Sì ieri sera a palso di governo abbiamo sottolineato questo noi non celebriamo la nascita della Repubblica ma celebriamo più che altro la nascita della democrazia in modo di vivere con cui ci siamo abituati ormai da 70 anni e che nessuno ci può togliere ma se non ci sono i valori non possiamo dare avanti con la testa alta Tanti studenti tanti giovani oggi per riaffermare l'importanza dei valori della nostra Repubblica Eh sì 70 anni sono un lasso di tempo ampio sono i 70 anni della nostra Repubblica ma sono anche i 70 anni della nostra democrazia che non dimentichiamo è nata sulle ceneri e sulle macerie fumanti della guerra e sul delirio del fascismo e poi c'è anche il 70 anni ci sono anche i 70 anni del voto femminile una conquista importante che oggi si dà per scontata forse ma che non lo era certamente 70 anni fa e poi un pensiero che magari non c'entra molto ma secondo me sì a Sara di Pietrantonio è quella ragazza di Roma che ha fatto una fine orribile strangolata e poi bruciata dal suo fidanzato il voto femminile è importante ma anche il rispetto delle donne lo è altrettanto e mi sembra che la cittadinanza sia stata sensibile sul punto proprio nel corso della cerimonia del 2 giugno di ieri sono stati consegnati dei riconoscimenti alla memoria uno al colonnello Paolo Piccinelli attuale comandante provinciale dell'arma a Pescara in ricordo del papà Franco Piccinelli giornalista e capo della Sederai del Piemonte gambizzato dalle Brigate Rosse nel 79 poi due riconoscimenti per due abruzzesi che sono stati rinchiusi nei lager nazisti nel corso della seconda guerra montiale Carlo Cavorso e Antonio Orlando vedete poi nella foto proprio le persone che hanno ricevuto questi riconoscimenti in particolare nella foto in basso a sinistra il colonnello Piccinelli con il comandante regionale dell'arma si rimarco andiamo ancora avanti per vedere un'altra pagina del quotidiano il centro si parla di cronaca in questo caso sgomberato il bivacco dei disperati alla stazione mercoledì sera intervenuto intervento scusate della polizia ferroviaria dopo il blitz dei mesi scorsi e poi in basso si parla di filo via la filo via bloccata costa troppo la CGL chiede a regione comune di far ripartire i lavori dell'opera sospesa proseguiamo storie di mezza Italia le Hawaii nel mega raduno dei Luciani si sono ritrovati a pranzo nello stabilimento balneare tra Pescara e Montesilvano tutti coloro che hanno questo cognome ovvero Luciani guardate quanta gente un cognome molto comune soprattutto nella zona che si trova a cavallo fra Pescara e Francavilla lasciamo la cronaca di Pescara siamo a Montesilvano i carabinieri all'ex sund casa di riposo palazzina fuori legge il comune ferma l'attività in un'ala della RSA Santa Maria ausiliatrice mancano i permessi per assistere gli anziani e poi la protesta per gli stipendi e quattro ex dipendenti aspettano i soldi da un anno proseguiamo siamo alla pagina sempre dell'area metropolitana di Pescara grazie a Montesilvano una città che ho amato la storia di un pensionato dell'Aquila sfollato dopo il terremoto del 2009 ha vissuto al mare per tre anni ma adesso deve tornare nel capoluogo e poi ancora a Montesilvano il comune va a caccia di sponsor per finanziare feste e concerti e città Sant'Angelo no al bilancio di fida del prefetto l'opposizione denuncia l'amministrazione è sempre in ritardo e poi ancora a Montesilvano a liceo d'Ascanio partono le lezioni di fisica del volo vedete questo articolo e poi di fianco festa della Repubblica in piazza anche nella cittadina adriatica e siamo ancora alla cronaca dell'area metropolitana di Pescara in questo caso a Francavilla al mare caccia all'ultimo voto è il giorno dei comizi finali e poi San Giovanni Teatino anche qui si va al voto Cutrupi del Movimento 5 Stelle dice no a patti trasversali poi San Buceto ricorderete due giorni fa la tragedia di questo operaio precipitato da un tetto mentre stava eseguendo dei lavori d'Ottavio la famiglia di questo operaio si affida ad un pool di legali e poi in basso Francavilla trasporto ai seggi per i disabili ci sono i numeri disponibili e poi premiato il vino Montecupulciano dedicato a Michetti l'eccellenza di Francavilla andiamo avanti vedete questo poster che riguarda il Pescara poi parleremo di sport di questa gara molto attesa di domenica con il Trapani siamo a Penne Popoli all'Alta Val Pescara rapino del PD a Forza Italia pronto soccorso resta Penne il segretario dei Democratici rassicura sul futuro del reparto di emergenza ma il direttore dell'ospedale avverte alcuni pazienti finiranno a Pescara ricorderete la conferenza stampa di Forza Italia qualche giorno fa in cui era stato lanciato l'allarme sulla situazione di alcuni ospedali delle aree interne e a Penne la piazza centrale divisa tra i quattro aspiranti sindaci anche nella zona vestina si torna al voto al voto anche in altre zone a Popoli in questo caso Galli altri cinque anni per i nuovi lavori si è ricandidato il sindaco uscente e ancora a Popoli comizi finali decisi dai sorteggi in basso Zaccagnini contro Lattanzio sfida sul rilancio del paese siamo a Tocco Casauria a Cugno Licchiola cerca il terzo mandato in Comune siamo alla cronaca di Chieti del Centro Maltauro è un'occasione da sfruttare c'è l'intervista al Presidente della Regione D'Alfonso e poi la figlia del maresciallo ucciso trova l'affetto dei carabinieri la ragazza studia a Chieti e poi il Comune assume due muratori sono 137 i posti vacanti a Basto e poi ancora a Chieti vedete in basso Legionella questa notte lo shock chimico dalle 20 alle 6 rubinetti e docce e chiusi al Policlinico per rimettere il cloro dentro le tubature siamo alla pagina dell'Aquila del Centro io accusato senza motivo ma la giustizia ha vinto parla l'ingegner De Angelis che racconta la sua verità dopo la soluzione definitiva non mi do pace per la morte di mia figlia e delle persone decedute nel crollo e poi vedete in basso la notizia che riguarda questa tragedia sulle strade in questo caso a Balsorano dove è morto un ingegnere di 28 anni aveva festeggiato un compleanno con gli amici feriti tre operai siamo alla cronaca di Teramo assalto al portavalori i testimoni li ho visti in azione era il Vietnam il racconto di una donna bloccata in auto a tal proposito andiamo a vedere proprio come proseguono le indagini degli inquirenti per capire cosa è realmente accaduto due sere fa sono le 22 di mercoledì sera quando il commando inizia l'assalto al blindato del gruppo marchigiano fitist che al suo interno trasportava l'incasso di alcuni supermercati una somma stimata di 1,8 milioni di euro l'inferno si consuma in pochi istanti sulla A14 tra Mosciano e Tortoreto si sprigionano le fiamme di due tirmis di traverso e dati alle fiamme per bloccare il traffico il portavalori viene bloccato dalle bande chiodate gettate sull'asfalto un muletto poi lo ribalta si sentono esplodere colpi di arma da fuoco forse Kalashnikov ad entrare in azione un numero di malviventi non precisato tra 7 e 10 pare dalla Centopugliese il colpo fallisce perché nel tentativo di aprire le lamine del furgone scatta l'allarme e allora si danno alla fuga con un SUV che più tardi sarà sostituito con un'auto di minore cilindrata il tratto scelto per l'assalto costeggia la zona industriale di Mosciano consentendo una rapida fuga evitando così l'autostrada arrestare ferita una delle quattro guardie a causa del capovolgimento del mezzo difficile anche l'intervento dei soccorsi a causa del blocco creato dai mezzi pesanti un modus operandi che riporta alla mente l'assalto avvenuto il 26 aprile scorso sempre sull'A14 ma all'altezza di San Giovanni Teatino in quell'occasione il colpo era stato compiuto alle prime ore del mattino e anche in quel caso erano state utilizzate bande chiodate a terra i mezzi pesanti avevano bloccato la corsia e la fuga era avvenuta per una strada parallela all'autostrada un colpo fallito per l'arrivo repentino della polizia il 17 maggio scorso poi una nuova analogia con un colpo avvenuto sempre sulla A14 tra valle del Rubicone Cesena Sud un commando formato da 12 persone ancora colpi d'arma da fuoco ancora mezzi incendiati e questa volta un bottino di 600 mila euro andiamo avanti sempre dalla pagina di Teramo del centro in basso trovato morto con accanto una siringa il corpo di un 46enne scoperto in un locale di via De Gasperi overdose o malore le ipotesi del decesso allora siamo arrivati alle pagine della cultura e poi dello sport andiamo a vedere dunque il messaggero poi vedremo anche il quotidiano la città di Teramo e daremo ovviamente spazio nell'ultima parte del nostro appuntamento con Mattino 6 allo sport per parlare soprattutto delle gare di playoff e playout che interessano il Pescara e poi il Lanciano inizierà il Lanciano a giocare la squadra frentana scenderà in campo domani sera nell'andata dei playout con la Salernità nel giorno dopo il Pescara per i playoff promozione affronterà il Trapani come abbiamo visto c'è la corsa al biglietto già oltre 12 mila i tagliandi staccati allora ripartiamo dalla cronaca di Pescara del messaggero giro di vite sugli scarichi abusivi a Pescara il sindaco Alessandrini dispone una serie di controlli e poi licenza sospesa Air Vallè se ne va dall'aeroporto di Pescara Tegola per la saga la compagnia cancella i voli fino a novembre il Movimento 5 Stelle accusa sperpero di denaro pubblico Mattoscio ribatte falsità vediamo il servizio Air Vallè pubblica sul suo sito una comunicazione agli utenti che recita così per motivi di carattere tecnico le prenotazioni per i voli sono momentaneamente sospese ci scusiamo per il disagio causato sospesi dunque collegamenti con l'aeroporto di Pescara dai per Catania Tirana e Olbia sempre sul sito di Air Vallè si legge dell'atterraggio di emergenza avvenuto a Catania lo scorso 30 aprile causato dalla mancata estrazione del carrello anteriore dell'aeromobile un nuovo colpo per lo Scala Bruzzese dopo il caso del taglio dei collegamenti con Fiumicino e la pagina aperta da Ryanair sulla sua dipartita proprio ieri però la saga società di gestione aeroportuale comunica i dati degli ultimi cinque mesi sul volume del traffico che attesta un'ascesa significativa 226.450 unità che creano un incremento del 6% sul progressivo gennaio-maggio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente lo stesso mese di maggio registra un più 4% rispetto al 2015 risultati che fanno esultare saga alla luce del taglio con l'Hub di Fiumicino dalle enormi incertezze create dall'annuncio di Ryanair nonché prosegue la società in un comunicato i gravi allarmi procurati dagli attacchi terroristici a Parigi e Bruxelles aggiungasi inoltre le gravi conseguenze di una vera e propria aggressione mediatica di un certo e prevenuto giornalismo scandalistico e in parte della politica che hanno inciso profondamente sui coefficienti di reputazione dello scalo un vero e proprio sfogo che riguarda le notizie trapelate nei mesi scorsi che hanno visto l'opposizione chiedere a più riprese il commissariamento di Saga secondo Saga inoltre il mantenimento delle posizioni e dell'ulteriore sviluppo di traffico aereo sarebbe conseguenza di corrette intuizioni che hanno portato all'attivazione di nuovi collegamenti con hub alternativi come gli scali di Linate e Bergamo Ori al Serio e nei prossimi mesi l'avvio del collegamento con Bucarest tramite Wizzar e con Torino sempre a mezzo Ervallè andiamo avanti sempre dalle pagine di Pescara del Messaggero consulenze d'oro nel mirino della Corte dei Conti l'ex dirigente Tommaso Dirino oggi alla Regione l'ex segretario generale della provincia citati per 100.000 euro sette esperti esterni nominati per il progetto multiasse ignorando le professionalità interne all'ente e poi si attende il ritorno della Salma di Angelucci il professore universitario di Pescara morto in Turchia e poi si chiude la campagna Love Cost ultimi comizi oggi a Francavilla in questo caso ma anche negli altri centri della Regione centri importanti dove si vota come Roseto Vasto Lanciano e Sulmona tanto per fare qualche nome poi Bivacchi e Baracche nuovo blitz alla stazione Montesilvano il Comune cerca sponsor per gli eventi dell'estate andiamo avanti L'Aquila Movida in centro storico stop parti dopo la chiusura festa della Repubblica fra memoria e storia e poi il provvedimento Cantieri Lenti ora scattano le multe infine a fondo pagina raccolta ingombranti dall'8 giugno il nuovo centro e poi la pagina di Avezzano Sulmona Schianto muore ingegnere di 28 anni l'incidente sulla soprestrada dell'Iria Balzorano impatto con un furgoncino ci sono altri tre feriti avezzano stazione blitz del nas nella stazione di Avezzano e poi sul mona assunzioni e comizi ultime scintille elettorali ancora nella città ovidiana multa agli studenti sul bus gratuito infine Avezzano Comune entrano la Balsorio e Mancini siamo alla cronaca di Chieti del messaggero sbanda e finisce fuori strada muore sul colpo a 24 anni ne abbiamo parlato di questa tragedia accaduta nei pressi di Manopello Adriano Claudio questo 24enne morto mentre tornava con alcuni amici dopo una serata passata fuori casa il tricolore e tanta musica protagonisti del 2 giugno anche a Chieti e poi operaio morto laico la verità dall'inchiesta infine Task Force Antilegionella stasera al via la maxi bonifica pagina di Lanciano Vasto Ortona truffe su internet processo in arrivo il procuratore Francesco Menditto si appresta a chiudere e a chiedere 23 rinvia giudizio 13 frentani coinvolti nell'inchiesta Ortona Consiglio Comunale Fiume per approvare il bilancio a Pollutri si ribalta il trattore grave un agricoltore Vasto l'ufficio elettorale è già al lavoro stasera i comizi finali a Lanciano siamo alla pagina di terra del messaggero oggi nasce il Brucchi Ter la new entry e fracassa c'è il punto interrogativo dovrebbe essere proprio lui fracassa uno dei volti nuovi in giunta e poi trovato morto in casa a 46 anni verrà effettuata l'autopsia radicali congresso in città per l'omaggio a Pannella e poi in basso donazioni 5 per 1000 capoluogo Fanalino di coda assalto al portavalori caccia ai rapinatori abbiamo visto poco fa il servizio poi Giulianova progetto pilota sicurezza ottimi risultati e sempre Giulianova biciclettata adriatica frenata dal maltempo Tortoreto record di prenotazioni turistiche roseto comunali ultimi comizi dei candidati siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere insieme però le pagine del quotidiano la città di Teramo e poi parleremo di sport proprio nell'ultimissima parte del nostro consueto appuntamento con Mattino 6 e ovviamente daremo spazio soprattutto al Pescara e al Lanciano vi ricordo che come detto ne abbiamo parlato prima si giocherà sabato per quanto riguarda il Lanciano Pescara per quanto domenica per quanto riguarda il Pescara allora quotidiano la città di Teramo una giunta a tempo determinato questo è il titolo principale sindaco Brucchio oggi varierà il nuovo esecutivo vediamo le pagine interne si allarga l'impero di Popolare di Bari e l'istituto che controlla Terca Secari per rileva la banca delle province Calabre posta in liquidazione coatta dal ministero e poi due morti negli incidenti lungo le strade abruzzesi ne abbiamo parlato ampiamente in questa rassegna stampa poi domani il rientro della salma del ricercatore morto in Turchia andiamo avanti assalto al portavalori ritrovate le auto del commando in fuga nel servizio di Francesca Romana Testi abbiamo fatto il punto sulle indagini e poi ancora Teramo cadavere trovato in un negozio sfitto sullo stradone oggi ci sarà l'autopsia la crisi in comune a Teramo quasi pronta la giunta a tempo determinato atteso per questa mattina l'annuncio del nuovo esecutivo del sindaco Brucchi ecco le possibilità degli assessori come abbiamo visto ovviamente ci sono già i primi nomi e poi addio alla tettoia in largo San Matteo dopo la scoperta di resti romani preoccupano quelli del convento delle suore benedettine abbattuto nel 1941 Pink Teramnia Teramo fa il pienone con la notte rosa dell'Università di Teramo vedete quante foto in questa pagina per questo appuntamento che ha visto davvero tanti giovani anche meno giovani a questo appuntamento con la notte rosa dell'Università di Teramo la Repubblica fa 70 nell'abbraccio teramano il punto proprio sulle cerimonie che si sono tenute ieri a Teramo e anche in altre zone e capoluoghi della nostra regione lungomaritalia sempre più complicato siamo alla pagina della Val Vibrata a Martinsicuro la pista ciclabile restringe gli spazi abitanti di Villa Rosa preoccupati per il traffico d'estate siamo alla pagina ancora della Val Vibrata ricorderete il disastro all'air show incidente causato dal malore del capo squadriglia nella telecamera dell'abitacolo la prova che Marco Ricci non era in sé nei secondi dell'impatto con il Gregario ancora pagina di Giulianova Mosciano cercasi idrovolante per il porto a Giulianova in basso il progetto di vigilanza privata ha funzionato lo dice Ivan Costantini soddisfatto per la sperimentazione andiamo ancora avanti Roseto, Pineto Atri e Silvi ecco come sarà il pontile di Roseto pronto il progetto da 300 mila euro e poi in basso questa sera i comizi finali dei candidati rosetani e poi la carica dei mille per la biciclettata 2016 a Pineto nonostante il maltempo vedete quanti hanno partecipato a questo appuntamento e poi la cultura così il restauro svela un Abruzzo sconosciuto arriviamo alla pagina dello sport con Zauri il teramo volta pagina presentato ieri il nuovo allenatore della formazione Bianco-Rossa andiamo alle pagine dello sport del centro e del messaggero partiamo dal centro per andare a vedere le pagine che riguardano il Pescara ed il Lanciano in particolare serie B a Lanciano si va verso il tutto esaurito per la sfida salvezza disponibili circa mille biglietti per la gara di andata Turchio Vitale il dubbio per completare la formazione e poi c'è l'intervista al doppio ex Bolic o il cuore diviso a metà dice Bolic e siamo alla pagina le due pagine sul Pescara Oddo Cosmi mentalità e stili di gioco agli antipodi dunque si affrontano si affronteranno Biancazzurri e siciliani in questa gara di 180 minuti con andata a Pescara ritorno in Sicilia vedete febbre Biancazzurra si va verso il pienone venduti 12.500 biglietti assalto non si può definire in altro modo assalto ai punti vendita ieri dei tifosi del Pescara e poi Oddo pronto a sfidare la terra degli avi perché la sua famiglia è proprio originaria di Trapani e poi col Pescara in A Oddo vuole restare ma se va via c'è Zeman in pole position noi abbiamo ascoltato il presidente del Pescara Daniele Sebastiani quando si abusa della parola progetto programmazione qui non si abusa di questa parola qui si fanno i fatti e questo significa non c'è altro quindi noi stiamo lavorando per fare sempre una squadra competitiva poi è chiaro arrivi in finale te la giochi e quello che succederà lo sapremo nelle prossime due partite una vittoria beneagurante per questa doppia sfida la vigilia di questa doppia sfida con il Trapani con questo pubblico che domenica sarà ancora più numeroso che ragazzi se lo meritano oggi a un certo punto quando si è alzata la ola era veramente una cosa da da brividi e quindi poi ragazzi sentono queste cose in campo e anche se avevano tirato un po' il fiato alla fine si sono rimessi sotto Pasquato era con i crampi io penso che avesse i crampi anche alle orecchie a un certo punto però ha dato quella palla alla fine a verde che ha fatto un'altra cosa delle sue mi ricorda un po' il gol di Insigne contro il Torino con il lancio di Verratti noi dobbiamo giocare con una grande concentrazione non lasciare nulla al caso perché il Trapani ha dimostrato che sia arrivato in finale e merita di stare dove è arrivato d'accordo il presidente Sebastiani nel dire che la gara di andata è comunque molto importante nell'arco di questi 180 minuti ma sono tutte e due importanti oggi abbiamo dimostrato che nonostante avessimo qualcosa da gestire non abbiamo gestito nulla anzi siamo partiti pronti in via abbiamo fatto quel gol bellissimo di Rapadula sull'assist di Pasquato e poi abbiamo raddoppiato per cui questa è una squadra che non può e non sa gestire deve giocare il suo calcio queste le parole del presidente del Pescara siamo alla pagina della Lega Pro Zauli mi ispiro a Guidolin voglio ragazzi motivati queste le prime parole del neotecnico Bianco Rosso e poi all'Aquila dopo la retrocessione in serie di accuse e repliche l'Aquila fa litigare eccellenza c'è aria di rivoluzione nel Renato Curi di Angolana e poi calcio a 5 Montesivano campione con una rimonta da sballo parliamo della finale scudetto femminile di Firenze poi basket l'amatori conta sulla spinta del Pala Elettra questa sera gara 3 della finalissima playoff di serie B per la promozione in serie A lasciamo le pagine dello sport del centro andiamo a vedere quelle del messaggero ovviamente anche sul quotidiano sulle pagine del quotidiano romano nell'inserto abruzzese grande spazio proprio alle vicende soprattutto di Pescara e Lanciano andiamo a vedere lo faremo tra qualche secondo proprio quelli che sono i titoli principali che riguardano Pescara e Lanciano ovviamente grande attesa a Pescara lo abbiamo visto ma grande attesa anche a Lanciano si va verso il tutto esaurito per la sfida con la Salernitana Oddo siamo pronti questo è il titolo che riguarda il Pescara poi vedete in basso caos e file interminabili per comprare i biglietti e poi la sfida tra Lanciano e Salernitana Lanciano con la Salernitana scocca l'ora di Bonazzoli e poi Zauli un Teramo da protagonista ieri la presentazione del tecnico Biancorosso andiamo a vedere il servizio di Jacopo Forcella io quando mi ha chiamato per la prima volta il Teramo a parlare mi sono girato verso i miei collaboratori e ho sperato che scegliessero me perché come sono venuto per la prima volta a Teramo l'anno scorso ho respirato subito aria di calcio di società importante molto organizzata e quindi anche solo questa presentazione lo dimostra quindi io non ho avuto nessun dubbio anzi ero lì a sperare che il Presidente e il Direttore scegliessero me perché intravedo in loro e nelle organizzazioni di questa società grandi cose nei nostri incontri sono usciti veramente pochissimi nomi ma ho letto anche in qualche giornale questi sono giocatori che ho allenato a cui devo veramente tanto perché se oggi sono qui non è merito mio ma è merito del Sant'Arcangelo che è una piccola società che lavora molto bene e grazie a tutti i ragazzi che ho allenato perché mi hanno dato sempre grande disponibilità quindi i risultati dell'anno scorso in merito di tanti di questi ragazzi se non tutti e questi sono stati dei giocatori importanti l'anno scorso ma valutiamo loro come ne valutiamo tanti l'incontro di Guido Lim per me nella mia carriera è stato fondamentale a casa ho la sua foto quella di mia moglie quella dei bambini nel senso che mi ha insegnato mi ha insegnato veramente tutto l'ho avuto la prima volta che avevo 19 anni l'ho riuscito a 30 parlo della carriera da calciatore quindi mi ha avuto bambino mi ha avuto diciamo uomo quindi mi ha insegnato tantissimo quindi lo reputo veramente un artefice importantissimo per la mia carriera da calciatore secondo me quello che va trasmesso alla squadra perché è la squadra che deve portare gli obiettivi deve essere il sognare di arrivare a quegli obiettivi lì l'umiltà assoluta non pensare mai che la cosa possa essere facile perché questi campionati stanno diventando sempre più selettivi quindi secondo me sarebbe stupido darci degli obiettivi sicuramente chi è seduto qui chi è seduto dall'altra parte vuole vedere il termo sempre vincere però noi dobbiamo costruire una squadra che vuole giocarsi tutte le partite con grande coraggio questo è il mio grande obiettivo poi dipende dalla qualità mia la qualità dei giocatori il carattere la determinazione sono tante le componenti che determinano una squadra vincente o no il mio compito è quello di farla di creare una squadra vincente nella mentalità poi la posizione di classifica ce la dovremmo meritare sul campo e chiudiamo con lo sport nazionale con le prime pagine dei tre quotidiani oggi ne dico la gazzetta dello sport il timbro di Moratti approva la vendita e punge Toir l'ormai ex patron cinesi in arrivo a Milano anche sulla sponda rosso-nera Milan Berlusconi accelera i compratori sono ottimi poi l'Under 21 Mago Berardi non basta Under 21 K con la Francia 1 a 0 ieri sera a Venezia Corriere dello sport doppietta Juve Dani Alves più Iconet e poi Ventura è pronto l'incontro sarà il nuovo allenatore il nuovo CT della Nazionale Azzurra infine chiudiamo con tutto sport neanche per 200 milioni Dybala e Pogba nella top 10 del mercato ma la Juve non li cede Toro Mijailovic il grande seduttore l'ex tecnico del Milan sulla panchina Granata e siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di venerdì 3 giugno con Mattino 6 io ringrazio Gianni Dario e Regia voi per averci seguito vi ricordo l'appuntamento prossimo con l'informazione come sempre alle 14 per la prima edizione del TG6 grazie e buona giornata per la prima edizione per la prima edizione per la prima edizione grazie a tutti